Ho presentato una proposta di legge e notate che io sono un imprenditore, quindi contro apparentemente gli interessi degli imprenditori, dove dico in questa misura, in questa proposta di legge, che vorrei creare degli incentivi alle imprese per la riorganizzazione della settimana lavorativa a quattro giorni. Quattro giorni, cioè sulla scia di quello che ha detto la premia finlandese, no? No, io l'ho detto molto prima e l'ho detto anche a una sua premissima. Allora, riconosciamo la primogenitura. La primogenitura. È un imprenditore che oggi fa il politico, quindi... Ma forse fai troppe le cose. Non sarà perché io vengo dall'Emilia Romagna e proprio oggi alcune aziende hanno denunciato che con la sugar tax e con la plastic tax ci sarà il 35% più del prezzo del prodotto. Sì, sì, un attimo, un attimo, un attimo, un attimo, un attimo, scusate, scusate, volevo però sommessamente ricordare che Italia Viva era contro la sugar tax e la plastic tax, anzi la plastic tax in particolare. Sì, però ringraziamo per averla posticipata ma non per averla tolta. Vabbè, adesso noi ci vediamo. Fatemi sentire...